Insomma, fratelli di Innocenzo, avete avuto un grandissimo successo, nonostante un periodo davvero molto molto difficile per il cinema, peccato che proprio all'uscita della presentazione non ci sia stata la possibilità di avere quel successo di pubblico che certamente sta arrivando e arriverà nel prossimo futuro. Beh, noi in realtà, io la vedo dall'altra parte del bicchiere perché sono molto positivo e ottimista nella vita, noi abbiamo avuto la fortuna di uscire a Berlino al Festival, di vincere e abbiamo scelto tra Berlino e Canna, abbiamo scelto Berlino e siamo stati fortunati, forse anche un po' prevergenti, ma la situazione purtroppo è drammatica, sono tanti set che hanno chiuso durante il lockdown, quindi in realtà abbiamo finito il film, abbiamo fatto uscire e la resa in piattaforma in realtà ci ha dato un accesso a un pubblico molto più trasversale di quello che pensavamo, quindi in realtà andrà bene. Ieri l'abbiamo, insomma, adesso lo presentiamo in sala, piano piano, quindi siamo felicissimi. Avete potuto raggiungere non solo il pubblico delle sale, ma anche quel pubblico che magari si fa fatica a portare in sala, che sia un po' accomodato sul divano e si gusta i film alla televisione? Assolutamente sì, poi ovviamente chi ha visto il film sa di cosa parla il film, sa che sono tematiche non da tutti, tematiche anche molto complicate, e forse il fatto che il pubblico ha visto il film comodamente a casa gli ha permesso di elaborare i temi del film senza la fretta di uscire al cinema, da dove andrà a prendere l'autobus, da dove andrà a safra una pezza. E tutto questo in qualche modo penso che abbia agevolato il pensiero e l'elaborazione del film, che è parte integrante del film stesso. Ischia vi piace? Ischia ci piace, ci piace il Festival di Pascal, è sempre così vivo, è sempre così autentico, è tutto tranne che insincero, questa è una cosa molto rara. Posso chiedere quali sono i progetti per il prossimo futuro, magari per un 2021 un po' più sereno? I progetti sì, per un 2021 di maggiore tranquillità, stanno veramente qualcosa di tragico in tutto, speriamo che si possa tornare a una normalità, ancora meglio speriamo di reinventare tutti assieme una normalità ancora migliore quella di prima.